hey babe come stai? tutto bene? ti ho visto un po' giù stasera ma sai cosa? stasera voglio provare io a fare la tua routine serale del viso del viso del viso avevo già preso i prodotti almeno penso di averli presi tutti non lo so e questa volta volevo provare io a fartela non so se mi ricordo tutto sinceramente però ci proviamo ok allora da cosa cominciamo? se non sbaglio io mi ricordo che tu partivi prima lavando la faccia giusto? ok ho capito ho capito quindi prendiamo il sapone dai che non manca molto finirlo è comunque questo sapone ho le unghie un pochino corte non riesco molto a far sentire il suono quindi allora io questo te lo devo spalmare su tutto il viso e poi con una salvietta lo tolgo no? penso di sì non mi ricordo però facciamo così perché stasera come ho già detto ci voglio provare io a farti rilassare un po' non mi sono un po' non mi sono un po' quindi così no? su su tutto il viso così no? così no? così così no? così così ok quindi questo te l'ho spalmato allora adesso lo dobbiamo togliere il sapone quindi userò una salvietta so che dovremmo usare l'acqua ma attualmente impossibile come vedi quindi prenderò una salvietta e cercherò di toglierlo con quello va bene? tanto siamo solo noi due non lo scoprirà nessuno ok Grazie. Ok, allora, le appoggio qua. E facciamo così, piano piano, non voglio strofinare troppo sulla pelle. Quindi, così, facciamo così, dai, ok, sta venendo via, va bene, va bene, cammiamo così adesso, dalla sull'altro lato, un po', un po', un po', un po', così, così, così. Perfetto, perfetto. Ok, dai, non manca tanto per toglierlo tutto. Ops, ok. Ok, dai, allora, a me, scusa, mi lacrima un attimino l'occhio. A me sembra di avertelo tolto tutto. Facciamo un'ultima passata. Così. Così, così, così. Ok, dai, pieghiamola questa, la appoggiiamo sempre qua. Come sempre mi ritrovo col tavolino pieno di roba. Adesso abbiamo fatto il sapone, no? Allora, se non sbaglio, allora, guardando i prodotti che vedo, tu metti adesso la, lo spumone, giusto la spuma. Sì, mi sembra, ci vada questa. Poi poi non mi ricordo in realtà, no? Non sono molto pratico di queste cose. Non mi ricordo in realtà, non mi ricordo in realtà, no? Ne metto un pochino pure di questo. Oddio, secondo me l'ho messo pure troppo. È impossibile regolarsi. Vado così? Ok. Dimmi se strofino troppo forte da qualche parte, oppure no? Cerco di coprire tutto il viso senza lasciare dei buchi. Spero di star facendo bene. Fammi vedere un po'. Dai, mi sembra di esserci. Un po' qua sotto ancora. Wow, che bel suono che fanno. Allesso pure qua. Mi devo prima un attimino pulire le mani. Ok. Però la spuma in realtà non so se togliertela con le salviette oppure con il cotone che l'ha perché troppo dovrò metterti un olio, non lo so cos'è sinceramente. Quindi se ho il viso un po' più asciutto secondo me è meglio, poi magari ho detto una cavolata però ci proviamo. Quindi lo metto un attimino via questo. Ho trovato questo di cotone, spero vada bene. Penso basti. Forse anche tanto. Vabbè usiamo questo, ormai l'ho preso. Allora, ho il parere di star facendo delle stupidaggini assurde, ma non ho la più pallida idea di come si faccia. Quindi, intanto, qua devo solo togliere la spuma. Ok dai, mi sembra che vada bene. Non rimane tanto. Un po' qua sulla fronte. Ok dai, mi sembra che il tuo viso sia, non mi aggiungo ancora il cotone sulle dita, sia ben asciutto. Ok. Ok. Quindi chiudiamo la spuma. Ok. Adesso, se non sbaglio, tu metti sempre questa specie di olio. Non so quello che ti ho detto prima. E mi ricordo una cosa, io se non sbaglio ti vedo sempre massaggiarti bene il viso quando metti questo. Quindi... ok... Ok. Ok, andiamo... viel vontemmig 때문에. Ok, fermiamo. Ok, come guardiани. e adesso prima che cade spalmiamo 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 e facciamo anche un po' di pressione sul viso così 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 ok ancora 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 perfetto così continuiamo premiamo un po' ok dai mi sembra sia venuto bene ok dai questo c'è questo c'è l'abbiamo fatto adesso come ultimo step io so che ti metti il contorno occhi quello qua sotto non lo so ho trovato questo mi sembra che tu usi questo perché mi ricordavo una cosa piccolina una cosa che mi ricordo troppo di questo è che lo prendi così per farlo rimanere qua sull'unghia e poi fai così e ce l'hai subito in mano quindi prendo ancora un pochino ok basta 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 così quindi lo passo qua sulla mano e adesso questo lo vado a mettere proprio sotto sotto gli occhi così sotto sotto gli occhi premiamo un pochino ok adesso le mani un po' onde però vabbè ok chiudiamo il barattolo ok dai mi sembra di aver fatto tutto no penso proprio di sì spero di aver fatto tutto giusto anche se in realtà non penso proprio proprio però dai ci ho provato almeno abbiamo passato una serata insieme va bene ok dai adesso però ti devo augurare la buonanotte va bene quindi adesso toccate iscriviti al canale qua sotto per entrare a far parte della mia oops community ovviamente nel caso non fossi già iscritto poi metti un bel mi piace sotto questo video e commenta con tutto quello che ti passa per la testa va bene tutto quanto non ti preoccupare il video di oggi inoltre finisce qui io spero vi sia piaciuto spero ti sia piaciuto ma nel caso tu volessi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video quindi non ci resta che dirci buonanotte 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 buonanotte